Siamo con Roberto Fratoni, direttore commerciale di Mondia Tecnica. Benvenuto a Mediota e Radio. Bentrovati. A questa edizione di Albergatore Day, che cosa presentate? Noi siamo una società di multi vision, un service che organizza congressi, tutta la parte video, audio, luci dal 1972, vuol dire che siamo già più di 45 anni in attività, siamo nati come società, come prestazioni per gli alberghi. Poi ci siamo evoluti, ci siamo organizzati diversamente anche con i clienti diretti. Siamo ufficialmente partner del Federalberghi da 15 anni, abbiamo iniziato con loro a far crescere questo Albergatore Day con molta soddisfazione e orgoglio. E come si è evoluto il lavoro in questi anni? Si è evoluto con passione, con organizzazione, con tecnologie nuove, con giovani, perché io ho un'età diciamo sempre giovane, ma molto giovane. I giovani sono quelli che poi portano novità, portano tecnologia e portano idee nuove. E la nostra azienda fa questo, cerchiamo di far crescere i giovani in modo che poi loro vanno avanti con le idee e con le tecnologie nuove. Non è che noi ci fermiamo, però noi abbiamo un'altra mentalità e un altro modo di lavorare. Servono tutti e due i modi. Servono tutti e due i modi, sì, sicuramente il vecchio stampo è quello che dà la mano e è un contratto chiuso, ancora oggi invece i mail, i social, tutte cose particolarmente rinnovative sul nostro settore che è quello che poi comunque porta al successo. Grazie Roberto Fratoni. Un piacere stato, salve. Grazie a tutti.